musica vabbè ma Giampa ma tu fai veramente cagare hai mangiato prima un'ora fa e ti ho visto non dire di no rimangi adesso dopo dobbiamo prendere l'aereo vabbè allora prima cosa gli etologi di tutto il mondo dicono che bisogna mangiare spesso spesso Giampa non sempre lasciami parlare con Davide grazie seconda cosa in aereo si mangia poco e terzo bisogno di carboidrati ENERGIA così quando arriviamo sono già lì pronto per l'after aerospace che fiano così vai io ho da farmi un giro ci vediamo al gate vi mando le coordinate oh per piacere puntuali eh per piacere ciao ciao marci usiamo un po' di compagnia eh si volentieri dopo ricordamelo eh ricordamelo Giampa si bella idea come come Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cazzo guardi.